Il sinodo delle chiese metodiste e valdesi è l'assemblea generale che esprime l'unità di tutte le chiese, affronta argomenti che riguardano la vita delle chiese sul piano generale e le sue delibere rappresentano un impegno di lavoro per le varie realtà territoriali e gli organi amministrativi. Si apre con un culto durante il quale i futuri ministri, al termine dei loro studi e dopo un esame pubblico, si impegnano a servire nella chiesa e vengono consacrati con l'imposizione delle mani. Il sinodo si riunisce ogni anno a Torre Pellici a fine agosto. Il sinodo è unico, ma ha anche una sessione in Sud America a febbraio per le chiese valdesi del Rio della Plata. Dove sono stato? 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 Dove sono stato?